scusate l'aspetto folcloristico di questo di questo video ma oggi parliamo di una pellicola che probabilmente è la madre di ogni fin di guerra anche se il film del 1962 il film è il giorno più lungo tratto dal libro di cornelius ryan cornelius ryan è un autore importantissimo per la narrazione della seconda guerra mondiale ha scritto veramente libri stupendi a partire appunto dal giorno più lungo per passare a il libro sugli ultimi giorni di berlino quell'ultimo ponte appunto da cui è stato tratto anche un altro bellissimo film che abbiamo recensito qualche giorno fa ebbene il giorno più lungo il giorno più lungo rappresenta veramente il centro di ogni ragionamento sui film di guerra è un film completo un colossal che ha segnato nel bene o nel male la storia del cinema bellico internazionale non fosse altro perché nel film del 1962 fino al 98 possiamo direi che è l'unico film autentico che ha parlato dello sbarco in normandia ci vorrà spilberg per eguagliare e se possibile anche superare la veridicità la immediatezza la grande capacità registica artistica di descrivere lo sbarco in normandia però con la differenza che il giorno più lungo rappresenta veramente tutto lo sbarco dai primi momenti nelle retrovie un impegno produttivo importante vi fu un impegno di economico di 10 milioni di dollari del 62 di cui circa 200 mila solo da dare a ryan per i diritti d'autore sul libro oltre una sua consulenza per la per la la sceneggiatura ogni attore poi farò vedere che calibro di attori abbiamo per questo film venne ricompensato con 25 mila dollari salvo john wayne che anche per una questione di rivalza nei confronti del produttore che lo aveva preso in giro per l'insuccesso della battaglia di alamo appunto john wayne aveva da poco fatto l'esperienza di regista oltre che di attore nel film la battaglia di alamo che non era andato molto bene quindi una sorta di ripicca e quindi per questo film chiese 250 mila dollari per un ruolo che del tenente colonnello dei paragotisti che inizialmente era stato era stato assegnato a charton eston solo che poi dopo john wayne accettò sciolse la riserva e di conseguenza charton eston non partecipò alla alla produzione quindi un film veramente maestoso che costò in termini puramente economici puramente di soldi adesso senza voler parlare altri 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 aspetti come i morti eccetera eccetera costò più dello stesso sbarco in normandia quindi a livello proprio di costi effettivi materiali nello sbarco quindi ci mostra anche la capacità di produzione un impegno finanziario non indifferente il film venne girato venne realizzato con l'ausilio di quattro registi ciascuno dei quali si occupò di una parte delle riprese vennero fatte riprese negli stati nel in gran bretagna nella preparazione al quale riprese che erano riferite alla alla francia quindi altre riprese della della spiaggia altre sul mare sul mare appunto che dovevano rappresentare lo sbarco dei mezzi quindi da questo punto di vista abbiamo un campionario di anche capacità registiche nel descrivere la battaglia che appunto questi questi tanti tanti espedienti narrativi il gli attori di varie innovazioni da parlano nella versione originale tutti nella propria lingua assomiglia da questo punto di vista ovviamente il contrario a bastardi senza gloria nel senso che bastardi senza gloria ha ripreso questo aspetto da il giorno più lungo quindi fa capire come il giorno più lungo veramente ha fatto scuola è anche una serie di di prese in giro di imitazioni il film in ideale è stato fatto il giorno più corto imitando per me era sulla prima guerra mondiale imitando lo sfarzo della quantità di attori il giorno più corto per esempio c'erano mi pare 101 attori anche che diciamo una battuta sola quindi cose veramente veramente molto 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 ironiche però arriviamo al cast quindi abbiamo parlato del cast del giorno più corto parliamo anche del giorno più lungo adesso prendendo questo mio solito libro molto molto bello fotografico vediamo questi sono tutti sono tutti sono gli attori principali quindi per farvi capire ma tutti di un certo calibro vi leggo alcuni solo per farvi un'idea abbiamo che ne so richard barton sean connery rod steiger mel ferrer kurt jurgens robert wagner polanca borville peter van eyck robert ryan volgan price john wayne harry fonda veramente abbiamo un cast impressionante che diciamo sfida sfida veramente le leggi potremmo dire le leggi della fisica se ci permette del paragone un film veramente maestoso che ha tra l'altro coinvolto una serie di consulenti militari proprio per la realizzazione del film e tra l'altro alcuni di questi attori che parteciparono al film avevano anch'essi partecipato allo sbarco in normandia perché come dicevo il il la pellicola è soltanto 18 anni dopo lo sbarco effettivo e tra l'altro una cosa interessante che venne valutata l'idea di far interpretare a eisenhower che non era più ormai inquilino della casa bianca il ruolo di se stesso un po imitando quello che era stato fatto con o di marfi in nel 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 film di cui lui era sceneggiatore perché aveva scritto il film il libro da cui appunto era lui auto auto protagonista però il problema è che eisenhower era ormai vecchio e non vi era la possibilità attraverso anche il trucco di renderlo più giovane di 18 anni quindi si cercò di ovviare questa cosa purtroppo eisenhower fu fu rattristato da questa da questo inconveniente venne scelto un altro attore che non era un grande attore però ci ha potuto dire due battute ed era molto rassomigliante ad eisenhower e tra l'altro parlando degli attori che avevano effettivamente partecipato allo sbarco in normandia possiamo parlare dell'attore che fece il maggiore award il famoso maggiore award che era il comandante del reparto che aveva un aliante era atterrato sul pegatus bridge la mattina la notte ancora i primi le prime truppe che erano arrivate sul suolo della normandia ecco lui aveva partecipato proprio a quello stessa operazione come ufficiale inferiore tant'è che c'era stata la possibilità di fargli fare egli stesso la parte che aveva realizzata che aveva effettivamente partecipato alla all'azione solo che decise di invece fare il comandante quindi partecipò anche da attore alla stesso sbarco in normandia dicevo è un film veramente composito con degli attori che se non erano famosi all'epoca lo sarebbero stato negli anni a prima parliamo sempre di di robert wagner robert wagner era molto giovane avrebbe poi negli anni maturato una certa esperienza come attore di televisione come attore di cinema ma anche sean conner siamo in 1962 sean conner ancora non ha fatto neanche uno 007 quindi da lì a poco questo film fa poche dice poche battute dall'altro fra un po fra un po affoga poco prima di arrivare sulla spiaggia quindi una anche narrazione molto articolata con tutta una serie di di attività di di effetti anche speciali tra l'altro vinse due oscar proprio sull'aspetto tecnico della della del film e diceva è stato girato con quattro registi più importante che nannagin ma tutta una serie di lavorazioni tali da rendere sempre più efficace il film che tra l'altro è stato girato proprio in normandia sui stessi luoghi sempre c'è il point walk dove uno dei dei ranger che si arrampica è polanca che il cantante polanca che avrebbe anche cantato una delle dei motivetti più famosi della storia del cinema che appunto era una delle dei 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 brani della colonna sonora appunto che rappresenta un po il film insieme a quella scena dell'elmetto lasciato sulla spiaggia come il 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 generale che disse sulla spiaggia rimarranno solo due tipi di soldati quelli che sono morti e quelli che moriranno diventa un po' una frase simbolo interpretato da robert mitchum ecco un altro dei grandi di grandi attori che non abbiamo avuto modo di 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 elencare prima quindi a questo punto di vista un film veramente che ha fatto la storia del cinema e che ha dato anche un contributo all'analisi e allo sviluppo della storia militare perché questo poi non dobbiamo mai dimenticarlo magari ci sembra un po' ridondante un po' scontato però effettivamente la l'analisi dei film di guerra ci permettono anche il l'opportunità di di creare una divulgazione storica che possa essere la più ampia possibile siamo se molti dei io io stesso o molte delle persone che stanno seguendo questi video magari hanno iniziato la propria curiosità la propria passione verso la storia militare leggendo i fumetti di guerra vedendo i film di guerra giocando con i soldatini quindi questo punto di vista sono tutti pezzi che vanno a costruire un certo interesse generale verso l'argomento e una cosa importante parlando degli attori è che appunto come dicevo gli attori che hanno una loro tante nazionalità parlarono tutti quanti la loro lingua quindi poi vennero venne montato il film e solo in edizione italiana per esempio si andò a doppiare le varie le varie i vari attori mentre nell'edizione originale ognuno parlava la sua lingua e venivano sottotitolati nelle lingue altrui essenzialmente lingue inglese tedesco e francese e molti molti attori appunto che interpretarono questo film interpretano ruoli effettivamente reali appunto la maggior parte sono trattando dal libro di ryan quindi abbiamo appunto oltre ai grandi comandanti come potesse for roosted rommel montgomery patton bradley cioè lì a scendere tutti quanti anche diciamo di gradi più più bassi una cosa interessante parlando del doppiaggio è che nella versione italiana il l'ufficiale che interpreta richard barton ha un dopo una voce quando è in inghilterra e un'altra voce quando è invece normandia che appunto tutti i vicestitutini che era era caduto con l'aereo tutta la scena non so se chi può ricordare avrà curiosità di vedere che riesce anche a uccidere un ufficiale tedesco che sarà messo gli stivali al contrario quindi anche delle cose abbastanza umoristiche che poi appunto anche nell'analisi del dettaglio perché oltre alla grande storia agli avvenimenti di grande storia militare ci sono anche delle delle chicche relative a personaggi minori come il paracautista che giocava con i dati oppure appunto la figura leggendaria del paracautista che rimane impigliato sul campagna di San Mereglise diventa sordo quindi c'è tutta una serie di racconti che hanno fatto anche la storia la storia del cinema ma anche la narrazione della seconda guerra mondiale che sono delle curiosità che rimangono fino a giorni nostri sono va a San Mereglise ancora c'è il manichino col paracadute quindi sono degli elementi simbolo che veramente hanno mantenuto anche a distanza di 70 anni oltre 70 anni questa questa veramente mitologia del conflitto mitologia del combattente e punto che poi sarebbe stato poi sviluppato anche in altre pellicole se uno pensa al punto a come ci ha citato salvato il sudditoraio dove c'è anche l'esaltazione la memoria dei cimiteri e questo parte tutto un po dal giorno più lungo che ha rappresentato nel bene o nel male un contributo essenziale anche grazie a questo bianco e nero questa fotografia veramente coinvolgente il cinema scope con la sua veramente quasi quasi avvolge lo spettatore ovviamente io sono troppo giovane per averlo visto al cinema ma anche in televisione rende molto questo senso di immedesimazione questo senso di anche claustrofobia nelle scene girate sulla spiaggia con la necessità oggettiva di riuscire a superare i reticolati i cavalli di frisia tutto un percorso accidentato appunto con una serie di difficoltà oggettive quindi questo è veramente un senso di realismo molto molto forte ovviamente siamo negli anni 60 ci sono anche delle regole a livello di censura ma indubbiamente ha dato un contributo molto importante al genere io non ho molto altro da dire perché il film è talmente denso talmente racchiude in sé tanti elementi che poi è impossibile dirli tutti quindi da questo punto di vista il film va visto va anche compreso nelle sue dinamiche nelle sue problematiche anche di organizzazione perché lo sbarco normandia non dobbiamo mai dimenticare che è la sommatoria di un grande sforzo logistico militare per appunto aprire il secondo fronte quindi per riuscire a riportare sul territorio europeo la guerra ma allo stesso tempo uno sforzo politico in contrapposizione alla contemporanea avanzata da est dell'armata rossa quindi questo è anche un discorso di bilanciamento rispetto ai due fronti di guerra anche per le reiterate richieste di stalin in tal proposito visto che non considerava il fronte forse a ragione il fronte dell'italia come un fronte determinante per l'esito finale della guerra quindi il giorno più lungo è un film veramente che dà tanto esprime tanto e inserisce anche degli elementi di riflessione politica storico politica secondo me sono sempre importanti io non manco mai occasione di sottolinearli la un certo un certo disappunto da parte di for rusted nei confronti hitler quindi tutto un discorso anche di necessità di rapportarsi tra le autorità politiche il governo essenzialmente le girarchie del partito nazista e tutte le filiazioni militari che avevano un approccio e una filosofia operativa diversa rispetto all'eventualità di uno sbarco quindi partiamo dall'inizio dalla riflessione di rommel sul tentativo di sbarco fino ad arrivare ad altre analisi appunto che c'era sempre il dilemma se lo sbarco sarebbe stato fatto sul passo di calè oppure in altro posto in normandia per esempio quindi diciamo c'è tutta questa preparazione la figura di rommel da questo punto è molto è molto importante anche il concetto di giorno più lungo perché il titolo è così perché appunto rommel aveva previsto che le prime 24 ore sarebbero state determinanti per l'esito di un eventuale sbarco quindi se la germania fosse riuscita a lasciare sulla spiaggia non far penetrare in 24 ore gli alleati lo sbarco sarebbe fallito in caso contrario la battaglia sarebbe stata persa quindi era molto più difficile riuscire a evitare una penetrazione ancora più più capillare ancora più profonda nel territorio francese quindi questo è anche un elemento molto interessante con lo sviluppo di tutte le i contrasti tutti i vari le varie voci che portarono a un'analisi di strategia nel nel contesto della della seconda guerra mondiale quindi che in questo film emergono che non dovrebbero lasciare lo spettatore appunto insoddisfatto perché appunto vanno comprese vanno anche ponderate in base alla riflessione una riflessione più ampia di storia appunto della strategia della politica stessa del del terzo reich con questa analisi io vi saluto vi ringrazio ancora per l'attenzione che rivolgete al al mio canale mettete mi raccomando mi piace mi piace al video iscrivetevi al canale e mi raccomando a un tac si risponde con due tac ciao